A Giarre sono iniziati già da qualche tempo i lavori di bitumazione per colmare le voragini delle strade giarresi, ma nonostante ciò continuano le segnalazioni di buche che costellano le strade. Siamo andati allora a constatare di presenza l'effettiva gravità dello stato in cui versano le vie cittadine e abbiamo trovato ben più di quanto ci aspettassimo. Ecco come si presenta l'incrocio fra via Orlando e via Marconi. Una buca di circa 8 centimetri di profondità e più di un metro di circonferenza campeggia il centro del crocevia. Un tratto stradale peraltro ad alta densità di traffico dove le automobili sono costrette a rallentare per attraversare la buca lentamente dato che è quasi impossibile evitarla. Una residente ci ferma per raccontarci che l'altra sera, data la scarsa illuminazione, stava per caderci dentro. La signora teme che prima o poi qualche centauro possa avere qualche grave incidente data la profondità della buca. Stesse voragini si trovano in via Foscolo e in via Sturzo, ma le buche più pericolose sono certamente quelle che troviamo in via Luminaria, via che conduce all'autostrada. Questa è solo una delle peggiori. Qui gli automobilisti sono costretti a fare slalom su un vero e proprio percorso d'ostacoli. Un altro residente ci indica che lo stesso problema, e forse anche più grave, si registra in via Pascoli. Lì ci racconta qualche settimana fa si è fatto carico di sistemare autonomamente la strada, ma la riparazione è nuovamente saltata dopo le ultime piogge. Altra strada martoriata dalle buche è via Parisi, ma queste sono soltanto alcune delle strade in cui abbiamo effettuato il nostro personalissimo sopralluogo. I residenti ce ne indicano tantissime altre, sottolineando che gli interventi di bitumazione vengono effettuati solo sulla strada statale. Ci si chiede per quanto durerà questa situazione, che non potrà che aggravare se non verranno eseguiti gli interventi necessari, rappresentando inoltre grave pericolo per l'incolumità di pedoni automobilisti, ma soprattutto ciclisti e motociclisti.